A più tardi. Benissimo, stiamo qua ad attendervi. Un cordiale buon pomeriggio a tutti. È la prima del convegno debutte di femmine di due anni sul miglio, in sette. Netta favorita Thelma Breed che cambia i colori, la scuderia d'ora, ma in Salchis è sempre lui, Giampaolo Minucci. Di galoppo Tabada Griff, dedicata a Fratelli Torrente tutta la giornata, pomodorini, passate, piselli, fagioli, di tutto di più. La Torrente è presente all'Ippodromo di Agnano. Via la macchina in velocità, alla chiusura, facile, Telli Falu con allargo Twister Lux. Cavalli che affrontano la piegata, fila indiana, si va al completamento del lancio, nell'ordine del quattordici. Viene via Twister Lux e si affaccia. Poi Thelma Breed a precedere Tiger Griff. Va a miti consigli, Tony Young parcheggia, ed è la volta della favorita Bred che sposta, punta in avanti. E quattrocento se ne vanno in trentuno, si presenta, classico freeway ma gradato per l'arrivo di Jean Paul. E dopo seicento metri la favorita a dettare i tempi. Seicento iniziali se ne vanno nell'ordine del quarantacinque e tre. Le cavalli affrontano la penultima curva, andatura brillante, con la Conway Hall che ora amministra il vantaggio dopo lo strappo. Ci va a timbrare il mezzo miglio iniziale, uno, uno e quattro, sedici e uno di tutto il respiro impiegata. Nulla muta, nulla cambia. Tutti agli ordini della Thelma Breed accettano quel che fa la leader. Si va alla chiusura del chilometro. Nell'ordine del sedici e nove, quindici e mezzo di frazione. Cinquecento alla meta. Thelma Breed, Telli Fali, Twister Lux, Tiger Griff. Curva finale. Frazione redditizia di fronte in quindici e tre, uno, trenta due e due, tre quarti di miglio. Allunga bene la Conway Hall e per il momento mantiene vantaggio. Viene via Twister Lux per stanare Telli Fali. Retta d'arrivo con la Thelma Breed che allunga disinvolta e prende vantaggio. Si ingamba bene Twister Lux che ha sgambato alla grande. Cerca la gancio. Thelma Breed di vantaggio. Il palo ci avvicina. Non c'è più tempo. Thelma Breed si salva. Ma bene. Da Twister Lux. Terzo e numero due di Tiger Griff. Due, due e nove. Uno, sedice e otto. Chiaramente da rivedere. Gli ultimi metri un po' così, così. Ma tutto sommato. Al debutto. Tutto va bene. Va bene anche questa Twister Lux che abbiamo visto sgambare alla grande. Un amico il... Un amico all di Antonio Di Nardo. Bene anche quello di Di Stefano. Questa Varen targata Griff che si chiama Tiger. Thelma Breed. Un e 76 è salito in chiusura la quota. E decisamente buone puledre. Al debutto alla prima di Agnano. Linea allo studio. Grazie. Grazie. Grazie.